Ciao a tutti, sono Laila e sono una laureata all'UK. Presso l'UK ho svolto il percorso di laurea triennale con specializzazione in mercati globali. Perché ho scelto questa università? Innanzitutto mi è stata consigliata per la praticità, quindi l'apertura verso il mondo del lavoro. Infatti sono stata molto contenta del servizio placement offerto appunto dall'università. In secondo luogo, quello che mi ha attirato era la possibilità di svolgere dei corsi in inglese. Infatti finito il percorso di triennale, ho poi riconfermato la mia passione per l'economia aziendale all'interno della LILUK, frequentando un corso di specialistica in International Business Management. Mi è piaciuta appunto la possibilità di confrontarmi anche con altri studenti internazionali e avere un pochino il confronto con altre culture. La scelta di questa università è dovuta anche alla comodità, alla praticità per raggiungerla e al fatto che è un pochino meno centrale rispetto a Milano. Questo mi ha permesso di lavorare mentre studiavo, proprio appunto per la facilità di gestione nel raggiungere l'università. Quindi, se qualcuno dovesse chiedermi, frequento la LILUK, cosa direi? Sì, assolutamente, soprattutto se ti interessa conoscere un ambiente con un respiro internazionale, frequentare dei corsi in inglese e soprattutto coniugare la vita, lavoro e università. Grazie 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 Grazie